Proseguono a Bari gli spettacoli teatrali e adesso è la volta di Azzurro Stralci di Vita nell'ambito dell'avviso pubblico Le Due Bari in scena al Teatro Kismet. Il protagonista è Curzio Maltese, travolto da una malattia importante che però guarda indietro la sua vita intensa e ne ripercorre le tappe insieme all'amico musicista Antonio Catania, affiancato dal pianoforte di Sergio Colicchio. Azzurro è una cavalcata appassionante tra pubblico e privato ripercorsi, gli anni della storia d'Italia, anni che si sono avvicendati tra eventi storici, politici e culturali, a partire dal boom economico e sino ai giorni nostri. C'è molto di quello perché Curzio era un giornalista satirico che scriveva di attualità politica, e quindi è molto graffiante la sua satira e diciamo che ci sono dei punti fermi nella sua storia, le mani pulite, i suoi cariti, i vergoni eccetera eccetera. Però c'è anche il percorso suo personale, professionale, di un'infanzia molto anche infelice se vogliamo, però anche questa voglia di superare tutte le difficoltà che ha avuto, tanti momenti brutti, con grande gioia. Per cui in qualche modo è un viaggio di conoscenza, un testamento per i giovani.